L'Atletico vince una partita fondamentale e ottiene quei tre punti che servono per agguantare i play-out che disputerà a Caltagirone. Una squadra contratta, quella di Rikiki che gioca un brutto primo tempo con poche conclusioni in porta, è che va sotto alla prima occasione degli ospiti grazie ad un gol dell'ex Abate che batte una distratta difesa. Primo tempo da dimenticare per gli uomini di Rikiki, tutta un'altra cosa invece è la ripresa. Le motivazioni degli atletisti che sarebbero eventualmente retrocessi con una sconfitta consentono a divenuto di agguantare subito il pari e nel giro di qualche minuto anche il gol del raddoppio con un'azione fotocopia rispetto al primo gol. Stessa azione, stesso marcatore, raddoppietta di divenuto. La Sampio subisce un passivo forse troppo pesante per quanto visto nei primi 45 minuti con il gol di Torcivia. Ancora una volta la catena di destra atletista lavora benissimo e Torcivia sigla la rete, la quarta in questa stagione, che chiude la gara. C'è gloria anche per il portiere di Carlo che para un rigore che avrebbe consentito agli ospiti di restare in partita.